buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo incontro di spazio alla conoscenza quattro punto zero sono siamo qua io e il mio collega adriano sciutto oggi a presenziare il questo nuovo evento con noi c'è luigian salone ingegner astronautico con specializzazioni sistemi satellitari attualmente in forza diciamo presso l'agenzia spaziale italiana e con lui affronteremo un tema che veramente interessante che è il progetto artemis e l'esplorazione sulla luna benvenuto ciao buonasera a tutti grazie allora insieme a noi abbiamo i nostri ragazzi che come al solito ci sopportano e ci supportano in tutte le nostre cose ringraziamo quindi per la regia si occuperanno della chat online quindi se volete fare domande all'ingegnere volentieri potete farle online noi poi alla fine del dell'incontro i ragazzi si ricordano si ricollegheranno e quindi le rivolgeremo all'ingegnere va bene allora direi che possiamo iniziare va bene ok a lei la parola grazie grazie a voi allora io ho preparato una breve presentazione sì perfetto che si vede va bene ho preparato una breve presentazione per raccontarvi un po dell'esplorazione della luna e dell'attuale progetto della nasa che si chiama artemis quindi dopo aver raccontato un po di di storia parleremo un po del dell'annuncio delle delle missioni artemis del dell'interesse verso il polo sud lunare di di come arriveremo lì di quale saranno le strutture a supporto per per l'esplorazione lunare parleremo della futura stazione spaziale lunare e poi brevemente andremo a parlare delle missioni artemis 1 2 e 3 con due brevi chiacchiere sull'hls che sarà il futuro il futuro letter per cominciare vorrei prima di tutto farvi vedere un brevissimo video dell'agenzia spaziale italiano sì 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 purtroppo non sentiamo il sonoro non si sente se c'è qualcosa di commento non non lo sentiamo poi se la storia è in propria sì sì e rieccoci qua per chi non lo sapesse l'agenzia Spaziale è un'area della italiana e l'italia è attiva in praticamente in tutti i settori dell'esplorazione dell'esplorazione spaziale abbiamo visto nel video le partecipazioni a programmi internazionali come come la missione Cassini-Huygens come la missione ExoMars e programmi nazionali di osservazione della Terra in particolare Cosmos SkyMed che che vede la che vede la Terra e modalità SAR con un radar che può vedere notte e giorno e prisma che invece può osservare la Terra in maniera con un sensorite spettrale come comincia l'esplorazione della luna l'esplorazione della luna comincia inizio degli anni sessanta quando erano alte le tensioni tra tra Stati Uniti e URSS quando finalmente nel 1962 JFK durante un famosissimo discorso di università disse annunciò al grande pubblico che avevano deciso di andare sulla luna e aggiunse in questo discorso una frase che mi piace tanto dicendo che ci andiamo non perché sia facile ma perché è difficile infatti fu una delle più grandi imprese dell'umanità e purtroppo cominciavano una tragedia perché nel 1967 solo cinque anni dopo dal dall'inizio di questa di questa enorme avventura morirono i primi tre astronauti del del programma pollo e ci fu un problema a terra purtroppo durante durante un test e i tre astronauti perirono nel nell'incidente questo non fermò la la NASA che in un anno incredibile di modifiche di di ingegneria di test di continue prove dopo circa un anno riuscì a lanciare l'Apollo 7 di fatto siamo passati dall'Apollo 1 all'Apollo 7 cancellando il resto delle missioni anche per sottolineare il il cambio generazionale che che ci fu soprattutto nei sistemi di sicurezza per la per la salute e la salvaguardia della vita degli astronauti e questa ancora fu una missione difficile Apollo 7 in realtà eh gli astronauti riuscirono a raggiungere tutti gli obiettivi della missione e in particolare erano il test tutti i test relativi alle funzioni del modulo eh CSM il modulo di comando e servizio eh però fu un volo eh molto contestato perché gli astronauti per la prima volta nella storia della dell'esplorazione spaziale eh contestarono le indicazioni che venivano dalla dalla NASA furono ci furono dei momenti dei momenti concitati in cui gli astronauti non volevano obbedire alle alle soluzioni proposte dal dal comando di volo alla fine la missione fu un successo eh però nessuno di quegli astronauti eh volò più sempre nel 1968 Apollo 8 fu la prima missione a testare il CSM in orbita lunare fu il il primo caso in cui il l'occhio umano poter vedere la faccia nascosta del da loro eh seguirono queste una una traiettoria questa speciale traiettoria un po' adotto che gli permise di 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 ritornare con con poche manovre verso la terra questa è una delle foto più più famose di quella missione gli astronauti dopo tre giorni di viaggio eh arrivarono sulla luna in orbita intorno alla luna fecero un giro dietro la luna e finalmente dopo il silenzio radio videro videro la terra con questo con questo spettacolo 1969 un anno dopo Apollo 9 fu il primo volo del dell'EM il LEM è questa struttura eh a destra e qui la potete vedere insieme al al CSM quindi il il vero veicolo abilitante per l'esplorazione lunare era costituito da questi due moduli il LEM qui sulla destra era costituito da una base di appoggio da un modulo che eh ripartiva dalla superficie lunare per raggiungere il modulo CSM che rimaneva in orbita in orbita lunare quindi fu un successo l'Apollo 9 e finalmente riuscirono a far volare il il LEM ma mancavano da testare ancora tantissime eh operazioni tantissimi test erano rimasti da fare eh come vedete c'è un approccio molto molto graduale e conservativo alle missioni ogni missione veniva attestato e aggiunto sempre nel millenovecentosessantanove dopo pochi mesi la missione Apollo 10 eh compirono delle manovre intorno alla luna ci fu il il LEM che si separò dal CSM e poi si ricongiunse arrivò ad una distanza di circa dieci chilometri della superficie e poi ritornò al al CSM ed insieme ritornarono verso verso la terra poi di nuovo ancora dopo un po' di mesi finalmente Apollo 11 era la prima missione in cui era previsto l'atterraggio dei degli uomini sulla sulla luna una una frase bellissima che molti di voi ricorderanno anche se siete giovani è che fu un un piccolo passo per l'uomo e un passo gigante per per l'umanità questa è una una foto scattata da una da una camera posizionata apposta da Neil Armstrong per per riprendere queste foto la missione prevedeva tre astronauti di cui solo due scendevano sulla luna qui potete vedere il LEM con la parte inferiore che di fatto poi rimaneva sulla superficie lunare e tuttora è lì e invece il modulo orbitale che poi ritornava verso verso il CSM dove rimaneva in compleva solitudine l'unico astronauta che rimaneva a bordo del CSM per poi rientrare tutti e tre sulla terra poi ci fu l'Apollo 12 un'altra missione nominale di esplorazione planetaria e poi Apollo 13 Apollo 13 anche eh servò delle delle sorprese la la frase storica di questo di questa missione è Houston we have a problem e purtroppo ebbero un un problema dovuto ad una esplosione sul modulo CSM e eh ci furono degli attimi in cui si si ebbe paura per la vita degli astronauti eh l'energia elettrica a bordo e la quantità di ossigeno furono razionati e furono completamente cambiati gli obiettivi della missione eh gli astronauti poco prima della manovra per l'inserzione eh finale in orbita lunare ebbero questo problema la missione fu abortita e eh fortunatamente i tre astronauti riuscirono a rientrare sulla terra e questa è una delle delle famose foto che che presero quando si avvicinavano alla luna e poi purtroppo dovettero tornare indietro un un film bellissimo di qualche anno fa che assolutamente vi consiglio è un film con conto Max ed è anche ed è anche molto ben fatto e vi racconta la la storia di Apollo 13 poi successivamente avremmo Apollo 14 ancora lì una missione eh nominale per fortuna sulla sullo superficie lunare poi nel settantuno Apollo 15 Apollo 15 fu la prima delle tre missioni che eh riuscirono a portare su loro anche il il rover il rover lunare questa è una specie di automobile dove due astronauti con la tuta pressurizzata si sedevano su questi due su questi due seggiolini e potevano esplorare eh chilometri e chilometri quindi alla fine questa è la la lista delle dodici persone che sono riuscite a camminare sulla sulla luna Apollo 11 12 13 eh 13 purtroppo non ce la fece quindi si passò a 14 15 16 e 17 solo 12 uomini hanno camminato su un pianeta che non sia la terra e eh e questa esplorazione fu tutta concentrata tra il 69 e il 72 immaginate con che eh sforzi tecnologici ed economici che la NASA riusci a portare avanti avanti questo progetto l'obiettivo era di arrivare entro il 1970 sulla luna e ce la fece questo portò a una serie di eh migliorie tecnologiche di fatto spingendo anche la tecnologia terrestre eh i computer negli anni sessanta settanta erano delle macchine enormi io per esempio ho inserito due foto una dell'EDSAC che era uno dei primi computer eh a valvole per utilizzo scientifico e fu progettato all'inizio degli anni cinquanta quindi erano le prime macchine eh di fatto operative del dopoguerra era una macchina a valvole ed era ed era enorme consumava come come cinque case e pesava tonnellate prendeva due stanze eh dieci anni dopo eh eravamo già passati all'IBM eh 7090 che ehm era una delle macchine che eh permise i calcoli per per l'esplorazione lunare eh in questa foto vedete solo il il terminale la macchina che c'è dietro il computer vero e pesa comunque tonnellate e occupa una metà di una stanza questo computer ehm è stato citato anche in un film che è molto bello che che più recente di Apollo 13 si chiama Liberi di di contare e narra la storia di eh alcune donne afroamericane che aiutarono con i loro calcoli perché prima prima dei calcolatori elettronici veniva tutto fatto a mano e loro aiutarono con i loro con i loro calcoli fatti a mano aiutarono gli imponenti calcoli matematici che eh servivano a far rientrare gli uomini la spinta tecnologica per eh per l'Apollo ci permise di eh permise all'umanità di passare da una tecnologia racchiusa dentro una stanza pesante tonnellate al computer di guida dell'Apollo qui in una in un'immagine semplificata alla GC che era un computer pesante solamente eh circa 40 chili quindi immaginate che cosa significa passare da quattro tonnellate a 40 chili il motivo qual è? è che il la più potente macchina realizzata dall'uomo eh il Saturno 5 che era il lanciatore che ci portò sulla sulla Luna eh doveva minimizzare in maniera assoluta ogni singolo grammo che eh si doveva portare con sé quindi questa spinta continua alla alla minima massa possibile eh introdusse queste migliorie tecnologiche per la miniaturizzazione dei componenti e di tutte le unità che servivano per per il volo adesso fa sorridere un computer del genere 40 chili e circa mille duemila cinque mila diecimila volte meno potente di un comune di un comune smartphone che che tutti noi che tutti noi abbiamo da allora cosa è successo? Eh non ci siamo più tornati sulla Luna è vero dal 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 settantadue e eh troppo poco saranno saranno cinquant'anni l'esplorazione della Luna non è non è terminata ci sono state tantissime sonde qui eh in con diverso colore vedete eh sia le missioni sovietiche con con le missioni Luna sia le missioni cinesi con le missioni Chang'e eh sia le missioni non abitate degli Stati Uniti che sono le Surveyor e le missioni e le missioni Apollo di fatto dopo il settantasei con la Luna ventiquattro c'è stato un un buco di più di trent'anni fino ad arrivare ai cinesi ai cinesi che dal duemila tredici hanno ricominciato ad eh ad esplorare la Luna con Chang'e 3 e una nota una nota interessante che tutte queste missioni sono atterrate sul sul lato visibile della Luna dalla terra solo Chang'e 4 e eh atterrata sul sul lato sul lato opposto sul lato non visibile probabilmente anche dovuto alla spinta dei dei nuovi attori eh dell'esplorazione lunare nel duemiladiciassette la NASA ha annunciato il programma Artemis che eh di fatto annunciava il ritorno dell'umanità sulla Luna e due anni dopo riuscirono a definire meglio i budget e le tempistiche l'annuncio del duemiladiciassette quindi solo due anni fa era eh torneremo sulla Luna questa volta e per starci entro il duemilaventiquattro adesso questa data seppur ancora eh ufficiale è ritenuta fin troppo fin troppo ottimistica eh qui in un'immagine vedete il una futura concezione di una di una base lunare che eh attualmente non è non è nei piani è solo un un'immagine grafica però l'obiettivo è tornarci sulla Luna per per rimanerci ovvero una persistente o quasi esplorazione esplorazione lunare di fatto con la stazione spaziale riusciamo a mantenere la continuità della presenza dell'uomo nello spazio e il passo successivo è proprio questo ritornare sulla Luna e mantenere la continuità del dell'uomo dell'uomo sulla Luna. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è raggiungere il polo sud il polo sud lunare e perché mi aiuto con con un video perché uno dei problemi più grossi della Luna è che il il periodo di rotazione della Luna concide col periodo di rivoluzione circa ventinove giorni quindi di fatto il vero problema dell'esplorazione lunare è la lunghissima notte lunare che dura ben due settimane e quindi è importantissimo andare a cercare le zone della Luna più illuminate dal sole in questo breve video potete vedere come al polo sud durante il i ventinove giorni alcune zone della Luna della Luna rimangono quasi permanentemente illuminate e alcune zone alcuni crateri alcuni fondi di alcuni crateri rimangono quasi permanentemente all'ombra. Questo che cosa significa? Significa che possiamo metterci dei pannelli solari lì e generare in maniera quasi continua dell'energia solare che dell'energia elettrica che è necessaria per per l'abitabilità. Inoltre la presenza di questi crateri potrebbe risolvere incredibili e favorevoli scoperte sulla possibilità di trovare di trovare dell'acqua sulla Luna. Adesso ritorno alla presentazione. Grazie. è crashato qualcosa sì non si vede la presentazione? Perfetto grazie quindi ehm ritorniamo sulla Luna ma come ci ritorniamo? Il lanciatore è il primo è il primo passo è il veicolo che ci permette di di staccarci dalla dalla superficie da testa. Qui eh vi ho messo gli 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 otto nove lanciatori che sono tra i tre più potenti al al mondo. Alcuni di questi non sono più non sono più operativi. Attualmente il il lanciatore più potente è il Falcon è il Falcon Heavy della della società Space Space X e successivamente avremo l'SLS che sarà il primo il primo lanciatore pesante della sviluppato dalla NASA a volare dopo il Saturno 5 e poi avremo anche l'SLS eh cargo che non porterà uomini ma solo ma solo materiale. Eh insieme a questi vedete il il lanciatore russo, lo IENI 6, l'energia e il il cinese longa marcia 9 che che sono in fase di sviluppo. L'N1 fu un un vecchio lanciatore, un vecchio lanciatore russo super super potente e però non fece nessuna nessuna missione di rilievo e cos'è il futuro? Il futuro dei lanciatori è lo lo Starship eh insieme ad SLS che contribuiranno al all'esplorazione all'esplorazione. Quindi eh la prima missione che coincide con la prima missione di Artemis e la missione dell'SLS anche qui c'ho un breve video speriamo che vada tutto bene SLS lancerà la missione con la capsula Orion ed è ed è la prima volta dopo decenni che una capsula eh abilitata e qualificata per per l'abitabilità umana venga lanciata. Quindi verrà lanciata la capsula non abitata si farà il giro intorno alla luna e poi tornerà verso la terra qui vedete il distacco del del modulo di rientro dal modulo di servizio e questo è il rientro solito con con i paracaduti e lo e lo splash verso verso l'oceano quindi eh a breve verrà lanciato SLS e probabilmente tra la fine e l'inizio di di questo anno e e sarà il vero il vero fattore abilitante per ritornare per ritornare oltre l'orbita terrestre il gateway sarà una delle infrastrutture necessarie per l'esplorazione lunare qui potete vedere molto in maniera molto sintetica che ci sarà un modulo dotato di pannelli solari chiamato il il PPE poi ci sarà l'alo che è questo nodo centrale per la l'abitabilità e la logistica degli astronauti con dei moduli eh accessori tra cui l'iab cui contribuisce l'agenzia spaziale europea e eh il modulo ESPRI sempre eh sempre fornito dal dall'ESA sulla destra potete vedere il modulo con la capsula Orion la la prima differenza che si nota rispetto al CSM delle missioni a pollo è che il Orion c'ha i pannelli solari e non nelle celle a combustibile come ce le aveva il il CSM delle missioni a pollo eh la configurazione non è stata ancora congelata però i primi due moduli sono sono in costruzione che sono il PPE e l'alo che verranno lanciati presumibilmente tra il duemilaventitré e il duemilaventiquattro una una curiosità nell'attuale configurazione tutto il volume abitabile dei gateway verrà costruito in Italia a Torino quanto è grande il quanto sarà grande il lunar gateway? Eh in realtà è relativamente piccolo mentre la stazione spaziale è un una stazione enorme che è la più o meno copre un campo di calcio la qui in basso a sinistra vedrete come sarà il futuro la futura stazione spaziale lunare chiamata chiamata gateway da qui gli astronauti atterreranno eh o anzi allumeranno e risaliranno per poi tornare grazie al modulo Orion verso verso la terra eh l'orbita e e la meccanica celeste sono tra le principali discipline che 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 si affrontano all'inizio di una di una missione spaziale eh qui potete vedere in maniera molto eh semplificata come come è fatta un'orbita un'orbita è semplicemente una una curva che percorre un satellite sia naturale che che artificiale intorno ad un ad un centro di massa qui eh qui abbiamo la terra con un'orbita la tipica orbita dei satelliti per esempio di osservazione della terra è sotto i mille chilometri e qui in scala potete vedere quanto eh mille chilometri siano siano pochi qua sulla sulla destra avete avete i chilometri di migliaia di chilometri la stazione spaziale è a soli quattrocento chilometri sulla superficie terrestre quindi poco al di fuori letteralmente poco al pochissimo al di fuori dell'atmosfera poi salendo di più abbiamo le orbite di media quota che sono le orbite dei satelliti utilizzati per la navigazione abbiamo i GPS e il Galileo e anche i russi GLONASS e i cinesi Beidu ancora più su a eh trentaseimila chilometri di distanza dalla superficie abbiamo i satelliti geostazionari quelli che rimangono fissi nel cielo e ci permettono di ricevere la televisione satellitare con delle antenne fisse le nostre antenne che guardano i satelliti geostazionari possono essere fisse perché i satelliti sembrano fissi rispetto alla terra perché ruotano con un periodo di rotazione che è uguale a quello del periodo di rotazione della terra l'esplorazione della luna sarà sarà più complessa perché il il gateway non orbiterà intorno né al centro di massa della della luna né intorno al centro di massa della terra ma eh sfrutterà una un'orbita speciale intorno ai punti di Lagrange questi sono nella dinamica dei tre corpi sono dei punti speciali che sono questi qua sono cinque punti questi qua sono riferiti al sistema eh terra sole ma si possono trovare per tutti per tutte le coppie di corpi in questo caso il terzo corpo il corpo è il corpo satellite artificiale eh abbiamo i punti L1 e L2 e L3 che sono punti instabili e i punti L4 e L5 che sono invece dei punti stabili che cosa significa stabile o instabile significa che una piccola perturbazione intorno a L4 eh permette al satellite artificiale di ritornare nella posizione di equilibrio mentre invece una piccola perturbazione intorno ai punti L3 L1 e L2 invece allontanano in maniera eh indefinita il corpo dal dal punto di equilibrio eh tra questi punti possiamo vedere che il punto L2 è uno dei punti più interessanti perché ci permette nel sistema Terra, Luna e Stazione Spaziale di essere vicini alla Luna in un'orbita è vero instabile quindi semplicemente richiede delle correzioni periodiche però molto ben calcolabile e assolutamente molto molto sicure quindi l'orbita che compirà il il Lunar Gateway sarà un'orbita ehm mai eh testata prima con con la presenza di uomini a bordo è una è un'orbita di tipo NRHO è una quasi eh rettilinea halo orbit le le halo orbit sono quelle orbite quasi periodiche che ruotano intorno ai punti ai punti di Lagrangio qui di fatto potete vedere in scala qui in alto a destra in base ai sistemi di riferimento di proiezione dell'orbita quanto sarà distante dalla superficie lunare eh la stazione spaziale fino al punto più lontano del della Luna che si è qui al al perisileno in cui sarà molto lontana questa orbita pur essendo in questo punto in cui il satellite è molto lento e molto lontano permette dei benefici unici per quanto riguarda le eh le telecomunicazioni con la Terra in particolare. Adesso in che punto siamo? Adesso siamo nella nel piena attuazione delle delle missioni Artemis. Le missioni Artemis sono divisi in due fasi. Abbiamo la la prima fase che è il ritorno alla alla superficie lunare. Quindi abbiamo che eh a breve avremo la missione Artemis uno poi dopo un anno Artemis due e successivamente cominceremo a costruire il il gateway fino ad arrivare alla missione Artemis tre. Artemis tre coincide con il primo utilizzo del dell'HLS dello Human Landing System. Prima dello Human Landing System avremo una serie di eh lander e rover che esploreranno la superficie lunare. Eh di fatto saranno degli anni super intensi per quanto riguarda i lanci e le attività spaziali anche grazie a un'iniziativa commerciale eh prevista dalla NASA che permetterà ai privati di raggiungere eh la superficie la superficie lunare. il vero eh la vera novità è il il modulo orario. Il modulo orario adesso ve lo faccio vedere se ci riesco in maniera tridimensionale e questo qui qui a sinistra lo potete vedere in versione racchiusa come viene lanciato e qui a destra invece in modalità ehm estesa come si troverà nello spazio nel momento del distacco. Allora questo è il modulo è il modulo di servizio e questo invece è il modulo è il modulo abitato che eh di fatto corrisponde ad una capsula molto simile a quelle di Apollo che ehm costituita da una front shell ed una back shell sono due gusci uniti tra di loro intorno a questa intorno a questo perimetro e eh in cui la front shell è quella più eh più critica perché è quella che deve sopportare le eh terribili temperature di di rientro. Questa parte qui è coperta da piastrelle ceramiche che permettono la resistenza all'intenso all'intenso valore generato dal rientro per per attrito contro l'atmosfera terrestre. Questo eh questa capsula Orion è fatta dai dagli Stati Uniti e dalla NASA mentre invece il modulo di servizio che vedete qui in basso e un anche grazie ad un contributo europeo alcune parti vengono fatte vengono fatti in Europa e viene assemblato in in Europa e il cui design è mutuato da un veicolo che europeo che raggiungeva la la stazione spaziale che è l'ATB che è l'Automated Transfer Vehicle che ehm invece di avere una capsula abitata per per gli assonati aveva un un modulo per il trasporto di di materiali e di eh elementi necessari per la vita a bordo della della stazione spaziale. la seconda fase invece della del programma Artemis è la preparazione per per le missioni per le missioni marziali eh di fatto ritorna sempre questo concetto torniamo sulla Luna per starci ma pensiamo sempre a Marte. La capacità di testare sistemi di fare delle delle prove con i moduli abitati al di fuori dell'orbita basso terrestre ci permetterà di eh prepararci per la futura esplorazione esplorazione marziana. Qui potete vedere in maniera in maniera grafica diversi diversi step che verranno fatti in in favore della 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 continua esplorazione umana della superficie lunare della continua ehm permanenza a bordo del 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 gateway che all'inizio verrà eh abitato solo per solo per poco perché di fatto siamo limitati dal dal lanciatore che di fatto lancerà solo una volta all'anno e e le missioni dureranno eh dureranno poche settimane. Quindi questa è la missione Artemis eh uno. Artemis uno è una una missione che prevede come le come le missioni Apollo una una traiettoria di questo tipo in cui il la sonda arriva intorno alla Luna eh compie un'orbita intorno alla Luna e poi ritorna verso la superficie terrestre per lo splashdown finale. Questa missione sarà eh ovviamente non abitata perché dovremmo testare tutti i sistemi e qui ritorna l'approccio molto eh molto tipico di queste missioni molto conservativo. Dobbiamo fare piccoli passi alla volta per testare tutti i sistemi e salvaguardare la vita la vita degli astronauti. Qui abbiamo Artemis eh due Artemis due eh prevedrà invece la la presenza a bordo di astronauti eh però non atterreremo non atterreremo sulla superficie. eh faremo la solita la solita traiettoria e ritorneremo verso la Terra con quattro astronauti ed una missione di eh circa dieci giorni. La missione invece Artemis eh tre è finalmente la missione che ci permetterà di portare sulla superficie i gli uomini e eh e anche la prima di una donna. Di fatto si prevede che il primo equipaggio a scendere sulla luna sarà costituito da un uomo e da una donna. Il problema è che abbiamo visto il la capsula Orion che servirà a raggiungere l'orbita lunare la stazione spaziale Gateway che rimarrà in orbita lunare ma manca il modulo di discesa. Per questo la NASA recentemente ha avviato uno studio eh competitivo con lo sviluppo di eh componenti tra tre compagnie diverse la Dynetics, SpaceX e il cosiddetto National Team ehm capitanato da eh Blue Origin. Eh questa selezione purtroppo ci ha avuto dei problemi amministrativi eh è stata selezionata SpaceX come la azienda è stata eh meritevole di costruire il il suo modello di eh HLS di Human Landing System e di fatto costituisce il quello che loro chiamano Moon Ship che è la versione lunare dello Starship. Eh per problemi amministrativi questo contratto non è stato ancora ancora avviato e eh e purtroppo ci sono delle adesso si è in tribunale per cercare di risolvere la la questione per una procedura non completamente trasparente secondo secondo alcuni usata usata dalla NASA e questi saranno questo probabilmente questo veicolo centrale di SpaceX sarà il veicolo che ci permetterà di rientrare sulla Luna. Come vedete ci sono tre configurazioni completamente diverse. Quello a a sinistra era un modulo molto basso con i serbatoi laterali e i pannelli solari in verticale mentre invece il National Team eh prevedeva una struttura molto simile a quelle di Apollo con una struttura inferiore che rimaneva sulla superficie ed un modulo di di ascesa mentre invece SpaceX ha puntato tutto su una struttura molto più grande molto più eh capace di trasportare materiale uomini con la possibilità di avere una sorta di eh sistema di carrucole per la discesa degli astronauti sulla sulla superficie eh di fatto il contenzioso avviato non ci permetterà sicuramente di arrivare sulla superficie lunare entro il il duemilaventiquattro e ultimamente sono uscite le notizie per cui anche lo sviluppo delle tutte lunari di nuova generazioni eh sarebbe in ritardo e quindi ehm tutta la comunità scientifica e delle agenzie spaziali aspetta a breve l'annuncio della NASA una volta risolti i problemi contrattuali per per l'HLS eh si aspetta a breve l'annuncio della NASA che non ce la faremo a tornare entro tre anni sulla sulla superficie lunare eh questo chiude la mia la mia presentazione vi ringrazio tutti ovviamente sono sono super disponibile a rispondere alle vostre domande e vi consiglio di rimanere in contatto con l'ASI che ha eh ovviamente diversi diversi siti internet il principale è ASI punto www.asi.it e abbiamo anche i nostri canali social per cui Facebook, Twitter eccetera e vi ringrazio tanto per per l'attenzione. Grazie Alessio è veramente interessante eh l'avventura sulla luna è sempre qualcosa che affascina eh l'idea di tornarci speravo prima sinceramente è qualcosa che mi ha colpito. Soprattutto ieri ho visto il lancio di Space Origin con Captain Kirk che è andato su sì e ho visto l'intervista che hai rilasciato appena sceso a Bezos era proprio colpito era emozionatissimo continuava a dire era lì era era azzurra era lì e quindi magari ci torniamo presto invece se sono problemi ce ne sono sono più burocratici quasi eh sì purtroppo sì perché di fatto la NASA mette a disposizione eh tantissimi fondi il contratto per per l'HLS è di circa tre miliardi di dollari per lo sviluppo del del lender quindi di fatto i soldi erano stati stanziati ed erano disponibili e anche sui giornali potete trovare la lotta tra due miliardari cioè Jeff Bezos che sta facendo questa causa legale contro contro Elon Musk che che invece è il è il proprietario del dell'azienda vincitrice la 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 SpaceX che tuttavia sta molto più avanti se pensate che SpaceX ha una 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 compagnia che gestisce voli del Falcon il Falcon 9 del Falcon Heavy attualmente e eh che c'ha un grandissimo ritorno mediatico che c'ha lo Starship in in costruzione e a breve dovrebbe volare per il primo test orbitale eh di fatto i loro lanciatori vanno e vengono soprattutto perché ci hanno per la prima volta nella storia ci hanno i booster che rientrano da soli sulla sulla superficie terrestre mentre invece il Blue Origin che è la la compagnia fondata da da Bezos eh di fatto per adesso eh è riuscito a far volare quel veicolo su cui stanno volando in maniera in maniera commerciale anche i privati eh però di fatto raggiungono i cento chilometri il volo dura pochi minuti provando l'assenza di gravità e poi ritornano in verticale al al punto di partenza quindi di fatto non raggiungono l'orbita però per definizione superando i cento chilometri della superficie si possono definire come viaggiatori spaziali. Ho detto ho visto ho seguito anche un pochettino eh la eh l'avventura con SpaceX dei quattro eh privati diciamo i primi quattro privati nessuno di loro pilota che ha fatto eh tre giorni intorno alla terra eh poi è stato veramente anche quello veramente emozionante le foto che ci sono di quando hanno aperto la la cupola la putra la cupola le foto sono sì stai citando il primo volo senza nessun astronauta professionista sì i tre i quattro passeggeri hanno fatto un un brevissimo addestramento e e l'hanno e l'hanno messi su su un falcon nove e di fatto questo ha fatto capire al grande pubblico che lo spazio sta diventando sempre più vicino e sempre più accessibile speriamo che io ho letto qualche tempo fa una storia che i primi voli aerei costavano uno sproposito anche lì sui duecentocinquanta mila dollari quindi più o meno se il volo di con Bezos so che costa più o meno o anche con la versione galattica la cifra dovrebbe essere quella nel tempo magari si riesca ad avere non dico i 29 euro che ci sarebbero adesso per andare a Parigi per andare su nello spazio però insomma a prezzi più ragionevole chiediamo i ragazzi che si hanno raccolto qualche domanda sì sì da youtube non ci sono domande ok va bene allora faccio un paio io se sì sì curiosità ma questi problemi burocratici che diciamo ingombrano la nasa permetterà all'arrivo ai cinesi prima di gli americani sulla luna è un punto interessante questo di fatto i cinesi così come i russi sono attualmente fuori dal dall'esplorazione umana della della luna era previsto sul gateway la presenza di alcuni moduli eh in contribuzione dai russi di fatto l'attuale stazione spaziale internazionale è una collaborazione tra il il blocco occidentale se vogliamo con con la russia c'è la stazione c'è un di fatto una parte russa e una parte americana sulla stessa sulla stessa stregua ehm all'inizio si prevedeva il lunar gateway con una parte russa e una parte americana eh i russi si sono si sono si sono si sono tirati indietro e ma chissà adesso vedremo è recente l'annuncio che invece starebbero prendendo accordi per fare una loro stazione spaziale lunare insieme ai cinesi però eh di fatto gli Stati Uniti sembrano essere molto avanti rispetto al al duo eh russo russo cinese eh Elon Musk è un un visionario nel suo campo e molti molti lo conosceranno per per Tesla che è anche il proprietario della dell'azienda che costruisce nuovi veicoli elettrici però noi lo conosciamo soprattutto perché è un visionario anche sul sulla parte spaziale e lui ha dichiarato che in ogni caso lui sarà pronto per per il duemila ventiquattro ad atterrare sulla ad allunare sulla superficie tra lui il primo allora a tornare barba agli stati eh questo un pochettino mi ricorda eh qualche le grosse corporazioni di che noi troviamo in molti libri di fantascienza in cui il futuro eh dello spazio sono mega corporazioni che si occupano di viaggi spaziali più che di eh più che nazioni è possibile andare perché vedo che c'è appunto eh Blue Origin con eh eh Bezos SpaceX con Elon Musk sono ultimi radiari che mirano allo spazio che diventa un po' un'eggemia più commerciale che eh interessi diciamo non possiamo dico nazionali sì questo è un cambio è un cambio epocale eh anche se guardiamo l'orbita bassa l'orbita terrestre bassa l'utilizzo di veicoli commerciali con la capsula Dragon tra l'altro fatta proprio da 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 SpaceX ehm è stata una novità incredibile di fatto la NASA ha detto facciamo sviluppare alcuni veicoli a privati dai cui noi acquisiremo i servizi ovviamente ovviamente ben pagati ma molto meno di sviluppi improprio pagheremo sviluppi sviluppi privati per attività che non sono prettamente di interesse scientifico perché di fatto siamo da da più di vent'anni sulla sulla stazione spaziale e quindi si sta aprendo sempre di più il l'utilizzo commerciale anche della stazione pensate che adesso sulla stazione spaziale ci sono un'attrice un'attrice russa e un regista che stanno girando delle scene di un film ed hanno battuto gli americani che invece volevano portare su Tom Cruise si ho letto sembra incredibile ma è vero è vero di fatto se pensi che ehm raggiungere lo spazio dalla terra raggiungere l'orbita proprio ci vogliono dieci minuti ci vogliono solamente dieci minuti su un un razzo magari al toccento metri però ci vogliono solo dieci minuti e poi c'è tutta una serie di ehm manovre e di eh test funzionali che poi ti permettono l'attracco con con la stazione spaziale ma sono solo dieci minuti di fatto che ti permettono di arrivare in orbita mentre invece arrivare su in orbita lunare ci vogliono sempre tre giorni questo questo ti fa capire la l'enorme ehm differenza che c'è tra tra l'orbita lunare e raggiungere invece solo l'orbita terrestre di fatto la NASA si sta concentrando proprio su questo ha risparmiato soldi sull'orbita bassa per concentrarsi sul sul sull'orbita lunare sul sul gateway quindi ben venga l'utilizzo di soldi privati se i soldi pubblici poi sono destinati a missioni molto più ambiziosi eh quello che posso chiedere che non ho capito molto bene eh questi eh quindi sono tre eh lander che adesso due o addirittura solamente uno che vengono verranno realizzati ehm però Orion servirà a portare quindi gli astronauti in eh l'orbita lunare e poi questi lander verranno eh servirà per portarli a terra ma quindi avremo due lanci separati perché diciamo personalmente sì non è più ma un unico lancio e poi sì l'ha eh lo slancio allora cos'è anzi ti dirò di più sono anche di più i lanci perché in alcune configurazioni eh di fatto il lanciatore ancora non esiste però in alcune configurazioni che stanno eh approfondendo gli ingegneri i lance sono anche più di due perché lo starship nella configurazione lunare chiamata moon ship è un veicolo chiamato ssto single stage to orbit e non rilascia niente sulla superficie quindi lui atterra così e riparte verso di nuovo l'orbita l'orbita lunare questo gli impone di consumare tantissimo tantissimo propellente e di fatto con un singolo lancio non ce la fa verrà immesso in orbita quindi un primo moon ship verrà raggiunto da uno starship ci sarà un trasferimento di propellente di fatto servirà come una stazione di rifornimento in orbita bassa e poi il moon ship andrà verso la luna mentre lo starship tornerà a terra la stazione di servizio volante e di fatto l'obiettivo è portare quante più tonnellate possibile verso verso la superficie eh se pensiamo che i primi moduli della della futura moon base che è così chiamata anche dall'agenzia spaziale europea eh avremo bisogno di portare sulla superficie qualcosa come cento tonnellate di di materiale per permettere una una permanenza eh medio lunga sulla superficie sulla superficie lunare quindi avremo bisogno di tantissimi lanci e e questo impone tantissime considerazioni perché attualmente il vettore della NASA l'SLS che attualmente è in integrazione quello che quello che porterà la prima capsula Orion verso lo spazio eh è in integrazione però è molto costoso un singolo un singolo lancio di quel lanciatore costa circa quasi due eh miliardi di dollari che danno una capacità produttiva attuale di farne solo uno all'anno quindi questo fa capire com'è com'è il limitante mentre invece da un'altra parte abbiamo i commerciali che dicono ah non c'è problema noi ogni mese possiamo tirar su un uno stasci per esempio quindi c'è una bella differenza e quindi sarà fondamentale il contributo il contributo dei privati verso 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 la luna e l'ASI come entra nel discorso dell'esplorazione lunare? Allora l'ASI ha numerevoli numerevoli contributi sull'esplorazione lunare eh da poco abbiamo siglato un un contratto su il uno dei primi lender che afferrerà sulla luna che testerà la possibilità di ricevere i segnali GPS sulla superficie sulla superficie lunare. Questo ci permetterà di navigare intorno alla luna usando degli emettitori che invece sono i satelliti GPS o Galileo che riceviamo anche noi sul cellulare. Eh mentre per quanto riguarda il il lunar gateway eh l'Italia contribuisce attraverso l'ESA che è l'agenzia spaziale europea ha i i due moduli che sono l'IAB e l'ESPRI e mentre per quanto riguarda Orion l'Italia contribuisce attraverso il modulo di di servizio del della capsula Orion. Eh di fatto siamo attualmente eh parlando con la NASA per stabilire se c'è la possibilità di una trattativa bilaterale quindi indipendente dall'ESA tra NASA ed ASI per contribuire al con un progetto grosso al al futuro dell'esplorazione lunare però eh il contratto non non è stato ancora non è stato ancora firmato e non non posso anticiparti però grosse sorprese arriveranno in futuro speriamo speriamo mi piace rivedere lo spazio vivo un pochettino che ormai erano anni che era proprio spento che speranza di andarci su veramente anche per noi. Sì. Dopotutto non vedo l'ora di rivedere due miliardi di persone attaccate al al televisore attaccate su YouTube a vedere a vedere le future le future emissioni. Non vedo non vedo l'ora perché sono tra gli tra gli eventi più eh capaci di ispirare le nuove le nuove generazioni e di attrarre l'interesse di quello che di fatto diventeranno i futuri i futuri scienziati. Adriano vuoi chiedere qualcosa? No direi ma allora mh soltanto una richiesta ecco perché diceva che eh diciamo la previsione del duemila e ventiquattro era un pochino troppo pretenziosa forse no? Ma quindi se dobbiamo dare delle date quindi si sposterà di un anno o addirittura potrebbero essere molto più dilatati i tempi e quindi anche l'installazione no? Di una di una piccola colonia no? L'inizio del solo luna quindi si sposterà sempre verso sempre più distante ecco da capire se riusciremo a vederla ecco più che altro poi. Sicuramente sì sicuramente si riusciremo a vederla eh la NASA non ha fatto alcun comunicato ufficiale però tra tra gli addetti a lavori il feeling è che sarà non prima del duemilaventisei non prima del duemilaventisei più probabilmente duemilaventisette però però lo vedremo lo vedremo sicuramente c'è l'intenzione ci sono i soldi abbiamo i mezzi tecnologici e quindi lo faremo di fatto una delle domande più più oppressanti che che viene fatta continuamente è ma ci siamo stati più di cinquant'anni fa come mai è tanto difficile ritornarci? Beh di fatto è una domanda assolutamente assolutamente sensata e e la risposta è che intanto ci muoviamo con meno fondi rispetto a quelli che erano gli anni sessanti eh di fatto l'approccio era allora costi quel che costi addirittura alcuni progetti erano senza budget cioè si potevano spendere miliardi di dollari eh senza problemi adesso invece eh siamo giustamente costretti a muoverci con budget che sembrano enormi quando parlo di due miliardi di dollari tre miliardi di dollari ma che sono limitati sono limitati fare una piccola variazione ad un design di un sistema così complesso impone una piccolissima variazione impone decine a forse centinaia di milioni di di dollari di modifiche questo è uno è uno di quei problemi un un altro problema è che è mancata probabilmente la spinta eh politica sulla competizione eh che c'era all'epoca della della guerra fredda e il mentre invece adesso l'obiettivo è sicuramente strategico perché eh chi riuscirà a fare la prima base lunare avrà una una posizione sicuramente primaria nella strategia nello scattere internazionale eh però sarà soprattutto anche scientifica perché ci saranno tantissimi esperimenti ci saranno tantissimi payload e fermo restando che l'obiettivo è sempre tornare sulla luna ma guardando Marte quello speriamo speriamo davvero di vederlo e eh attualmente non ci sono piani perché non ci sono contratti finanziati però quello nei prossimi quindici anni vent' anni eh probabilmente speriamo di di riuscire a vedere anche quello. Elon Musk ha promesso entro il duemila trenta trentacinque se non sbaglio i primi uomini sulla luna, su Marte. Quindi insomma. Sì. È vero che lui sbaglia ogni tanto esce un po' dai canoni come si può dire fa delle previsioni molto ottimistiche però diciamo che ci lavora anche tantissimo sopra. Ehm un'ultima domanda se non posso se non sono indiscreto. Ehm perché non utilizzare eh lo Starship o eh lo Space Moon per andare sulla luna? Perché usare Orion e poi la Lenda? Non si può utilizzare non si potrebbe utilizzare quell'unica e quindi diciamo risparmiare una fase? Si potrebbe fare. Si potrebbe fare e eh eh probabilmente il il sistema di di Muship è in grado di farlo grazie alle sue dimensioni molto più importanti e la sua capacità di carico. Ehm però non è in grado di offrire una permanenza continua o quasi. Di fatto l'unica soluzione è avere una una piccola stazione spaziale costruita con eh con diversi moduli che eh che permettano la permanenza di eh qualcosa dell'ordine di settimane o pochi mesi di fatto poco sarà intorno a non ci sono ancora piani operativi eh però sarà qualcosa dell'ordine di quaranta giorni proprio in orbita in orbita lunare mentre mentre invece il eh SpaceX si sta concentrando sulla parte di 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 lancio sulla parte proprio dei lanciatori per per l'allunaggio e poi il successivo il successivo di. La musica una volta utilizzata rimarrà lì in orbita in attesa di altri astronauti per tornare giù o per la persa? Eh no di fatto uno dei concetti più rivoluzionari è che ritornerà giù tutta insieme. Ritornerà giù tutto insieme e eh potrebbe essere anche riutilizzabile. Dico potrebbe perché attualmente i veicoli Falcon di SpaceX eh fanno rientrare il primo stadio e lo riutilizzano. Una delle cose che che disse Elon Musk eh dieci anni fa fu ma ma vi rendete conto che spendiamo eh centinaia di milioni di euro per costruire un veicolo lo usiamo dieci minuti e lo buttiamo. E come dire costruisco un Boeing sette quattro sette vado a New York e poi lo brucio. Quindi questa è stata una delle sue spinte per dire io eh posso finanziare un veicolo privato perché di fatto l'ha sviluppato con soldi propri eh ha sviluppato un veicolo che permetteva il rientro il rientro del falco. Adesso sta lavorando con lo Starship a far entrare anche il secondo stadio che è la parte superiore superiore del lanciatore che deve attraversare eh una fascia molto più grande di atmosfera e quindi resistere a temperature molto molto più alte. Quindi eh superato questa sfida di far rientrare il il modulo superiore il secondo stadio sulla sulla superficie terrestre può pensare di far rientrare anche eventualmente lo il moonship che però dovrà affrontare dato che viene da da più lontano eh orientativamente c'è la velocità superiori. Boh c'entra di mezzo la dinamica orbitale è un po' complicato però la velocità è superiore. Essendo la velocità superiore la temperatura che dovrà eh sopportare sarà superiore e e questo non è mai stato provato su un veicolo del genere. Quindi non c'è attualmente non c'è non c'è non c'è la confidenza che che questo possa essere fatto in maniera sicura. Però eh sono sicuro che anche lui ci riserverà delle sorprese delle sorprese nei prossimi cinque dieci anni incredibili. Ah secondo me anche prima. Vedendo come sta parlando a bocca cica da avanti allora segui segui anche gli eventi a bocca cica sulla sulla. Io seguo Elon Musk è il mio mito ormai da anni quindi seguo su YouTube tutti i lanci dell'SN le prove di pressione tutto no no quello là. Mi è venuta sta malattia. E' una sana malattia meno male. C'è di peggio. Sicuramente però non vedo l'ora di salirci anch'io diciamo farci un giro. Va bene eh io direi che possiamo terminare qua eh ringraziamo il salone per la sua eh presentazione per averci dedicato tutto questo tempo a rispondere alle curiosità nostre che altro mia e e niente spero di rincontrarci magari in presenza più avanti per il prossimo anno che abbiamo in mente di fare qualcosa di un po' più ingrosso ma l'anticipazione che vedrete. Anche noi abbiamo le nostre i nostri progetti segreti. E va bene quindi ringraziamo l'ingegnere Salone ringraziamo eh Adriano che ci ha seguito in questa diretta ringraziamo i ragazzi che ci hanno aiutato eh io domenica sabato scusate mi sono dimenticato di ringraziare eh i ragazzi del turistico che hanno accolto gli ospiti all'evento con 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 Tommaso Ghidini che si sono messi a nostra disposizione e eh lì sul palco poi mi sono dimenticato è mai giusto ricordarli perché anche loro a ogni evento facciamo eh in diretta ci dà scusate non in diretta eh dal vivo ci danno una grossa mano. Quindi grazie a tutti e direi ci vediamo la prossima volta eh grazie a voi un fortissimo grazie e speriamo di vederci in presenza la prossima volta. Sì e per parlare dello sbarco magari sulla luna chissà. Perché no? Grazie a tutti. O vederlo insieme. Magari. Magari vederlo insieme. Magari vederlo insieme cioè meraviglioso. Fa una diretta durante lo sbarco magari. Presto. Ok grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie.